I have a drink Ho qui l'onore oggi di rappresentare la chiesa pastapariana italiana L'unica chiesa, l'unica religione presente in questa piazza ufficialmente A sostenere i diritti di tutti i cittadini E allora che questo paese faccia come gli altri paesi europei Che difendono e ci aiutano a difendere la famiglia tradizionale pastapariana Composta da un numero n di persone, di n orientazioni sessuali Che stanno bene, voglio fare una famiglia insieme perché si amano e si rispettano Questo è il paese Oggi vi portiamo in questa piazza quindi le nostre sugose tagliatelle Fatte della stessa sostanza di cui il prodigioso spaghetto volante è fatto Brame Venite a nutrirvi nello spirito e nella panza Venite da noi, qua abbiamo sugose tagliatelle per voi Ci mettiamo tutti insieme qua davanti e ci facciamo tante belle foto Brame Grazie Beverendo Allora se non ci sono altre associazioni che vogliono dire qualcosa, che vogliono intervenire Noi siamo le FGS, la Federazione dei Giovani Socialisti E anche se siamo ormai qui Vicino alla bocca al microfono, attaccate la bocca Anche se siamo ormai quasi dimenticati Siamo qui Vivi e Vegiti E siamo pronti a partecipare a questa manifestazione insieme a voi Perché l'uguaglianza è detta dalla nostra Costituzione E l'uguaglianza deve essere di tutti, non solo di alcuni E vabbè Grazie Anche i cocanetti dell'UAR Oddio, l'UAR c'è L'UAR corrente E la notizia è incredibile E' che per la prima volta l'UAR è d'accordo con un religioso E' che per la prima volta l'UAR è d'accordo con un religioso E' che per la prima volta l'UAR è d'accordo con un religioso Dopo le tagliatelle in piedi, le tagliatelle che potete venire a mangiare qui, partiremo con il corteo e faremo il flash bob nella piazza del Duomo, perché sarà ora di svegliarsi, sarà ora di svegliare questo paese, è ora dei diritti, perché il sonno della ragione genera mostri, e noi non vogliamo vivere in un paese pieno di mostri, vero? Come quelle che manifestano da qualche altra parte oggi. Dopo faremo il flash bob e continueremo verso il palazzo del ridotto dove ci sarà un interessantissimo convegno, per cui vi invito a rimanere con noi. Allora inizio la nostra teglia di preghiera, unitevi alla chiesa forza pariana italiana, venite a consumare le tagliatelle, arrrr!